vuoi fare davvero un regalo speciale a tua moglie o alla tua fidanzata vieni alla gioielleria de santis qui puoi trovare una vasta gamma di oggetti davvero di alta classe orologi anelli catenine d'oro e d'argento o perché no uno stupendo coglieri diamanti vieni alla gioielleria de santis il nostro personale sarà a tua completa disposizione per consigliarti in meglio la gioielleria de santis la trovi a civita nova marche in via duca degli abruzzi 28 oppure a fermo al corso cefalonia 27 ti aspettiamo